Come avevamo preparato la partita? Dopo il primo quarto ci siamo incepati e le percentuali dicono tutto sia il secondo che il terzo quarto. Attacco senza ritmo, attacco dove dopo il primo o il secondo passaggio non si riusciva a ottimizzare il vantaggio oppure anche alcuni tiri aperti non realizzati che possono succedere. Secondo me dovevamo essere ancora più duri a livello fisico, dovevamo mettere un po' più di cattiveria che è stato on divaga. Insomma, però è una sconfitta che ci deve far riflettere, che ci deve far capire che dobbiamo lavorare ancora. La strada è lunga, è difficile, ma dobbiamo continuare a lavorare duro perché ogni settimana c'è una battaglia che ci aspetta. Peccato perché solo un quarto è troppo poco per venire a vincere a Capodorlando. Dopo ci sono stati i tentativi dell'ultimo quarto, ma accompagnati con diversi errori sia in difesa ma soprattutto in attacco, dove abbiamo sbagliato abbastanza, anche cose facili. No, oggi era fondamentale vincere la partita. Mi sapevamo già tutta la settimana che dovremmo iniziare subito forte perché sono le partite che comunque giocando in casa questi punti qua non possiamo farceli scappare. Direi che comunque la classifica fino adesso non è quella che veramente noi siamo perché alla fine abbiamo perso contro Milano e Torino per mani nostre, non per mani loro. Quindi siamo a quattro punti e adesso possiamo essere un po' più sereni dagli ultimi posti, però comunque l'obiettivo rimane la salvezza e continuare comunque a migliorare partita per partita. Poi dopo magari possiamo parlare anche di altre cose, però per adesso diciamo che la cosa più importante è migliorare giorno dopo giorno. Giocando alla pari per 39 minuti con Milano, vincendo tutta la partita con Torino, con tutto il rispetto per Pesaro, sapevamo che eravamo superiori soprattutto giocando anche in casa. Però comunque rispetto ovviamente per qualsiasi avversario, dovevamo solo iniziare forte e diciamo dal primo minuto mettere un'impronta per la gara. Poi ovviamente durante la partita ci sono alti e bassi, ovviamente non puoi fare iniziare sopra di 20 e vincere di 40, cioè capita poche volte, quindi magari a volte tornavamo un po' indietro, però alla fine siamo stati compatti comunque come gruppo, alla fine vedo 4-5 giocatori in doppia cifra, alcuni anche vuol dire che ci siamo passati la palla, quindi questa è la cosa più importante. Noi siamo una squadra che comunque se ci passiamo la palla e difendiamo possiamo fare grandi cose, devo dire. Però la cosa più importante adesso abbiamo vinto, però domani basta, stasera ce la godiamo, domani già pensiamo al Champions League perché non c'è tempo per riposare, dobbiamo stare sempre sul pezzo perché dopo sennò diventa dura anche per le altre partite. Allora avevamo bisogno di questa vittoria, una vittoria che comunque ci dà consapevolezza dei nostri mezzi e ci dà un segnale importante sul valore delle cose che stiamo facendo. Credo che l'approccio a questa gara sia stato segnato più che altro da una tensione che comunque il nostro gruppo avvertiva. è un periodo in cui i risultati in termini di vittorie nell'ultimo periodo sono venuti molto poco rispetto a ciò che abbiamo prodotto nel campo. Chiaramente oggi ci tenevamo a fare bene, questo secondo me all'inizio la squadra l'ha avvertito molto. Con l'andare avanti dei minuti, dei quarti, la squadra ha preso coscienza e consapevolezza della propria forza. Abbiamo cominciato ad essere ancora più ruvidi in difesa ma soprattutto abbiamo cominciato a correre il campo con una scioltezza maggiore. Questo chiaramente ha prodotto un numero di punti facili in transizione, cosa che credo che è nelle corde della nostra squadra. Un merito ai ragazzi, un plauso a loro e un plauso mi permetto di sottolineare al pubblico oggi presente. Ci ha aiutato, ci ha sostenuto e ci ha incoraggiato nei momenti comunque difficili che sono anche in questa partita arrivati. Ma dico, è importante che tutti quanti insieme, il pubblico di stasera personalmente mi ha dato questo segnale, mi ha fatto capire questo. Tutti insieme capiamo cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Dunque i presenti li ringrazio in maniera particolare ma mi auguro che dalla prossima volta anche altri nostri tifosi, altri orlandini, l'altra parte del popolo orlandino arrivi al palazzetto a sostenerci, a capire che quello che stiamo facendo quest'anno non è altro che crescere, cominciare un nuovo ciclo. E credo che così andando avanti l'orlandina non solo si toglierà delle soddisfazioni quest'anno ma metti i presupposti affinché in un prossimo futuro si tornerà ad essere grandi, grandi, grandi. Non che oggi, attenzione, che le parole vanno pesate bene, non che oggi noi siamo piccoli, no. Oggi stiamo ripartendo con un nuovo ciclo ed è giusto che possa arrivare qualche sconfitta come è già successa fino ad ora. Ma io credo fermamente in questo gruppo, sono ragazzi straordinari, ragazzi che stanno crescendo. Per questo dicevo già quest'anno credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni ma sono sicuro che da qui ad andare avanti l'orlandina sarà grande.